Dividetevi in gruppi di Cypercarro! Forza ragazzi! Andiamo! Restate con i carri! Revis, insegniamo i crocchi in questa galleria! Raggiungeremo i carri dall'altra parte! Ma la boda! Guarda, guarda, guarda! Aspetta di canoni! Aspetta di canoni! Usate i carri come scudo e vi avanziamo! Quando avremo raggiunto la linea scendete nelle trincee e fate tacere quei cannoni anticarro il prima possibile! Non devono riuscire a buttarvi! Attenzione, c'è una vittagliatrice! Traverci, via, via! Capi mirati di fronte! Una granata su per l'MG! Sviap! Vi faccio i nostri bambini! So il appare, una linea scendete! Bravo, ruikeremo pour l'amoglio! Alasce! Autor そう! Voi! 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 Oh no! Davis, entra nel bunker e ferma quel cañone! Ritchie! Restatemi vicino! Ritchie, c'è un'altra tricera sulla prossima cresta! Attraversate la valle e scendete nelle triceri in fresca! Usate i carri come scudo! Occhio ai campi! Attivinati! Una granata! In arrivo! Si vediamo a lì! O a Berlino! Non so dove arriverò prima! Occhio! Via, via! Nervo! ErANTE! Allora! Ritualt, compritene si sta ricamenco! L'accent! Via, via! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!